E neanche conosciamo i nostri diritti, le libertà che ci devono essere garantite? Questo significa non avere capacità critica rispetto a qualunque accadimento della vita, perché alla fine che cosa succede? Che anche se io sento qualcuno che parla al telegiornale, in televisione o su un giornale che dà una sua opinione, come faccio? Come sono in grado di capirla fino in fondo, ma soprattutto di avere quella coscienza critica per decidere se mi convince oppure no? Se non sono nulla. Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti su Punifans. Oggi avremo il piacere di parlare con Gennaro Tedasciano, docente di diritto amministrativo. Vi chiedo subito di spiegarci cos'è in breve il diritto amministrativo. Beh, allora, il diritto amministrativo è quel ramo del diritto che studia sostanzialmente i rapporti tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni. Quindi riguarda sostanzialmente la vita di tutti noi, perché ognuno di noi ha una serie di rapporti, appunto, di diritto pubblico con la pubblica amministrazione. Ce li abbiamo quando nasciamo, perché dobbiamo essere registrati all'anagrafe, abbiamo un codice fiscale, un codice che ci consente di avere i servizi sanitari e così via. Quando dobbiamo costruire una casa abbiamo necessità di chiedere una concessione edilizia ad una pubblica amministrazione comune. Durante tutta la nostra vita siamo infarciti, per così dire, di posizioni giuridiche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Quindi il diritto amministrativo è quella scienza che studia e in qualche modo individua la regolazione dell'esercizio del potere amministrativo e dei diritti e degli interessi dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione. E poi naturalmente c'è il profilo processuale, cioè queste posizioni possono essere difese davanti a un giudice contro la pubblica amministrazione o una pubblica autorità e in questo caso c'è un giudice che è speciale o specializzato in questo senso che è l'insieme del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali che appunto hanno una competenza, una giurizzazione ma io ancora, su tutte le questioni che appengono all'esercizio del potere pubblico. A volte non ce ne rendiamo conto, ma davvero il diritto pubblico finisce per regolare gran parte della nostra vita in modo quasi naturale, neanche ce ne accorgiamo. Viviamo in un mondo che in qualche modo è regolato da norme di diritto amministrativo, anche quando prendiamo un autobus per intenderci. L'autobus è un servizio che ci viene fornito dall'amministrazione comunale, è vero che noi paghiamo un biglietto e quindi quello è un contratto di trasporto, ma è anche vero che il servizio è organizzato e gestito con risorse pubbliche dalla pubblica amministrazione e noi siamo degli utenti. Questo per semplificare il più possibile, poi chiaramente si arriva anche a questioni più complicate perché il diritto amministrativo si occupa, come dicevamo, non solo della vita dei cittadini in senso anagrafico, ma si occupa dell'edilizia, dell'urbanistica, dell'ambiente, della salute, ha a che fare con l'esercizio del potere di tutte le autorità amministrative indipendenti. In qualche modo studia anche la modalità di esercizio del potere del governo nei confronti dei cittadini. Quindi in qualche modo devo dire che abbraccia davvero una serie di materie che tutte insieme, compresa per esempio la contabilità pubblica, che tutte insieme formano questa grossa scienza che è appunto il diritto amministrativo. Parlato di cose complicate, ci può sticare cosa il piano nazionale, ripresa e residenza e quanto è realmente importante? Allora, il SNRR è una cosa un po' particolare perché diciamo che si tratta di un piano che prevede una serie di azioni con una serie, si chiamano cluster, o comunque una serie di risultati che devono essere raggiunti, finanziati in gran parte da risorse dell'Unione Europea e in parte da risorse del nostro Paese. E sono progetti, sostanzialmente finiscono per il PNR, per compendiare una serie di progetti significativi che possono andare da opere pubbliche significative, ma anche per esempio progetti innovativi, anche le università per esempio hanno avuto modo di accedere a questi fondi, ma anche sotto il profilo dell'ambiente, ma anche sotto il profilo sanitario. Insomma, in qualche modo è una grandissima occasione anche per la nostra nazione per avere risorse ulteriori rispetto a quelle del bilancio del nostro Stato che possono appunto essere dedicate diciamo a infrastrutture prevalentemente, ma anche soprattutto a ricerca, innovazione, insomma un'occasione unica. Naturalmente è anche come dire l'overlata da una serie di regole che ci provengono dall'Unione Europea, perché il PNRR naturalmente lo riguarda solo l'Italia, ma anche tutti gli altri paesi europei. Spendere al meglio la risorsa europea anche relativa al PNRR, oltre quelli che sono i fondi comunitari che comunque annualmente sono assegnati al nostro paese, chiaramente è ormai diventato un dovere istituzionale che rappresenta anche una sfida della tutta, perché la verità è che il nostro paese non è così abituato ad avere una capacità di spesa con una certa regolarità, con una certa tempestività, soprattutto con una certa efficacia, cioè con il perseguimento del risultato che ci si attende. Quindi è veramente una grossa sfida e soprattutto diciamo lo sforzo è prima di tutto organizzativo, ma non solo con le pubbliche amministrazioni, delle autorità, del governo per intenderci o delle regioni dei comuni, ma anche le private, perché funziona l'investimento laddove sia quello che noi chiamiamo il PPP, cioè il partenariato pubblico-privato. Il pubblico non può fare tutto da solo, il privato ovviamente non può fare degli investimenti che sono poco promulgativi, per cui attraverso anche i fondi del PNRR noi abbiamo la possibilità di mettere insieme la capacità pubblica e quella privata per appunto eseguire, attuare quelli che sono i progetti che sono stati inclusi nel PNRR. Naturalmente ci vuole una certa capacità, delicatezza, infatti come sicuramente avrai visto, giornalmente c'è il dubbio se riusciamo a raggiungere i risultati, i cosiddetti milestone che sono fissati come traguardo per poter avere poi ulteriori tranche di finanziamento. Non è che l'Unione Europea ha finanziato in una sola volta tutto quanto il piano nazionale, ma non lo finanzia diciamo a rate, ma vuole verificare anche che si raggiungano i risultati e devo dire che noi abbiamo in questo momento due esigenze. Una di andare in fretta allo stesso tempo di essere trasparenti e fare in modo che le attività siano regolari e legittime. Queste due cose non sono semplici da mettere insieme, perché per rendere un'azione sia della parte pubblica sia del privato legittima occorre che ci siano dei presidi di controllo, anche per intendere che anticorruzione, anticriminalità organizzata, che chiaramente quando ci sono tante risorse messe sul mercato tende ad approfittare, a insinuarsi, però per rendere tutto legittimo occorre appunto avere dei rapporti diciamo di in qualche modo da parte di soggetti terzi che controllano l'attività, occorre inserire dei presidi di legalità che possono, rischiano di rallentare l'azione. Dall'altra parte dobbiamo andare veloci, è il solito discorso, più si vuole rendere trasparente e legittima l'attività amministrativa meno semplificata è e meno veloce è. Se vogliamo rendere l'azione molto veloce e tempestiva la spesa diventa più efficace, ma il rischio è che poi questa spesa non giuga a buon fine perché magari viene deviata, perché ci sono meno controlli. Purtroppo questo è il dilemma. in particolare c'è un organo che sta affrontando questa problematica che è la Corte dei Conti che è un istituto pubblico, è la Corte dei Conti italiana ma la Corte dei Conti c'è in tutti i paesi e c'è anche la Corte dei Conti europea che appunto ha il compito di fare dei controlli preventivi, concomitanti e successivi per controllare che la spesa pubblica sia corretta ed efficiente. Questo è il discorso. Chiaramente questo crea anche problema di compatibilità con l'azione del governo. La concessione di questi fondi del PNRR come viene assegnata ai privati da parte dello Stato? Immagino con una gara d'appalto. Sì, si fanno gare d'appalto e anche questo è collegato col PNRR ovviamente perché quando io prima dicevo che appunto la capacità di spesa, come dire, pretende che vi sia una collaborazione tra pubblico e privato o il partenariato ma anche attraverso il sistema delle concessioni, il sistema degli appalti, occorre in qualche modo che poi la scelta del privato sia corretta. Qui bisogna allora in modo semplice. Il discorso qual è? E amministra i propri soldi, un privato, noi stessi, è padrone di quella risorsa e può farne quella che vuole, può anche utilizzarla in modo dispendioso, voluttuario, diciamo così, d'accordo? Perché comunque ha la titolarità di quella risorsa. Le amministrazioni pubbliche, lo Stato, le regioni comuni, gli enti pubblici, in realtà utilizzano sì risorse ma sono risorse pubbliche, cioè le tasse che noi paghiamo. Quindi non hanno la disponibilità, non sono proprietari, per intenderci, titolari di quella risorsa. E beh, quindi accade quello che accade anche nelle famiglie. Se, come dire, un genitore affida ad un figlio, diciamo, una risorsa per raggiungere un effetto, vai a comprare una certa cosa, ha delegato quel soggetto e pensa che quel soggetto sia affidabile e possa in qualche modo concludere quella spesa in modo corretto. La stessa cosa accade per la pubblica amministrazione. Deve scegliere un privato che diventa a volte un partner, a volte un gestore, a volte un appaltatore, a volte un concessionario, comunque utilizza risorsa pubblica. Se si utilizza risorsa pubblica, la scelta del soggetto privato non può essere indifferente. Deve essere il miglior privato possibile che garantisce la migliore prestazione possibile al miglior prezzo possibile. Come si fa a raggiungere questo effetto? L'unica modalità è quella di fare appunto dei bandi, in modo tale che nel bando io fisso quelli che sono gli obiettivi di quel bando, che possono essere un lavoro, una prestazione di servizi, una fornitura di beni, per esempio. Stabilisco qual è l'importo massimo, stabilisco quali sono i requisiti che deve avere il soggetto privato per poter espletare questo appalto e stabilisco un'altra serie di regole appunto a presidio della legalità, della trasparenza e così via. Ecco, tutto questo è disciplina del codice degli appalti. Intendiamoci, è una disciplina che noi abbiamo in Italia ma che è di derivazione europea, dell'Unione Europea, l'Unione Europea fissa con delle norme che si chiamano direttive, direttive cosiddette autoesecutive, fissa quelle che sono le regole per spendere le risorse pubbliche. I Stati recepiscono con una propria norma queste regole. In Italia noi abbiamo quello che chiamiamo normalmente il codice degli appalti, o meglio il codice dei contratti pubblici, tecnicamente si chiamano, ma più comunemente il codice degli appalti. Il codice degli appalti recentemente è stato riformato. Dal primo luglio noi avremo un nuovo codice degli appalti e l'intenzione del governo quando ha approvato questo nuovo codice degli appalti era proprio quello di favorire una maggiore capacità e velocità di spesa a parità però di regolarità ovviamente. Quindi ha provato a semplificare il codice degli appalti, ha provato a inserire gli istituti di, diciamo, maggiore velocizzazione, ha comunque previsto dei presidi di controllo. Non dimentichiamoci che in Italia c'è un'autorità amministrativa indipendente che si chiama Autorità Nazionale Anticommissione che controlla anche gli appalti e ha dei poteri forti nei confronti sia delle pubbliche amministrazioni sia nei confronti dei privati per controllare che tutto vada bene. Comunque, allora abbiamo un codice degli appalti che disciplina la scelta del contraente ma anche l'esecuzione del contratto, cioè controlla tutto. È diviso in diverse parti. la cosa fondamentale è che divide il sottosoglia dal soprasoglia, cioè noi abbiamo delle soglie che vengono fissate a livello comunitario, sopra le quali vale la legislazione comunitaria, sotto le quali vale la legislazione italiana. Ma l'Italia ha fatto da tempo la scelta, cioè ha deciso nel codice di discendere entrambe le cose. La novità vera, una delle novità vere del nuovo codice è che fino ad una certa soglia si può evitare la gara, cioè scegliere l'appaltatore direttamente. Chiaramente deve avere sempre requisiti, deve avere anche un requisito di moralità professionale che si verifica attraverso, come dire, il controllo che l'amministratore e tutti i soggetti che ci lavorano non abbiano subito condanne penali, non ci sia infiltrazione di criminalità organizzata, eccetera, eccetera. Si era il regalo con le tasse, ma ce ne sono tanti requisiti. Tutto queste soglie però si semplifica, si dice talmente bassa la spesa, che tutto sommato fare un procedimento così completo non vale la pena. Tenete conto però che le soglie sono molto basse, per intenderci, per servizi e forniture sono 140 mila euro sostanzialmente, quindi sopra 140 mila euro comunque si devono far legare, salvo alcune eccezioni. Sotto i 140 effettivamente le amministrazioni possono fare servizi e forniture con affidamenti diretti. Per i lavori la soglie un pochino più alta, ma insomma leggermente più alta. Ma comunque sia, in ogni caso, diciamo si tratta comunque di una semplificazione che era sentita e che c'è anche in altri stati. E tenete presente che teoricamente il nostro Stato avrebbe anche potuto dire che fino a 5 milioni di euro poteva anche dire di, come dire, fare affidamenti diretti. Perché? Perché la disciplina comunitaria per i lavori, sono per i lavori, si applica dai 5 milioni e qualcosa, non è proprio 5 milioni, 5 milioni e dispari. Sopra questa soglia si applica 10 milioni comunitarie. Sotto no. L'Italia ha scelto anche sotto questa soglia comunque di applicare il codice dei contratti. E questo è un fatto naturalmente di legalità, per intenderci. Va bene? Nel PNRR solo un miliardo, che equivale allo 0,5% del fondo completo, è stato assegnato allo sport. Secondo lei, Malagò ha ragione nel dire, perché l'ho intervistato nell'intervista prima di lei, che il fondo è realmente poco e questa cifra estesa sul territorio nazionale è molto, molto vasto. Allora, bisogna dare il presente che il PNRR normalmente riguarda tutte le attività che noi abbiamo. Effettivamente anch'io concordo con la visione di Malagò, cioè lo sport ormai negli ordinamenti moderni e anche nel nostro paese è diventato un volano economico, una necessità sociale, una necessità salutare, nel senso che in qualche modo c'è una stretta correlazione tra il livello di salute di una popolazione e la capacità, diciamo, di infondere una certa cultura del movimento. Quindi anch'io concordo che forse si poteva immaginare di incrementare nel nostro paese soprattutto le infrastrutture sportive. Noi abbiamo sempre avuto un problema sotto questo profilo, un po' perché era complicato e non a caso si sono succedute più cosiddette ligi di stadia, no? Cioè norme che in qualche modo hanno, diciamo, avevano come finalità quella di semplificare l'iter normativo per costruire infrastrutture sportive. Noi pensiamo sempre agli stadi, ai grandi stadi per il calcio, ma in realtà noi siamo poveri di impianti di infrastrutture sportive sotto ogni profilo. Lasciamo stare le grandi città come ruba che effettivamente hanno, diciamo, impianti sportivi significativi, ma la distribuzione sul territorio nazionale effettivamente lascia un po' a desiderare. E poi soprattutto abbiamo un grave handicap. Nelle scuole non si fa sport. Non si fa sport anche perché tu hai un cane che si morde la coda. Non si fa sport perché non ci sono impianti sportivi che possono essere utilizzati nelle scuole. Noi abbiamo scuole che raramente sono edifici costruite per essere edifici scolastici. Sono sempre adattati. Difficilmente ci sono palestre fatte per essere palestre. A volte sono state adattate anche quelle. A volte le scuole si devono rivolgere a istituti o impianti sportivi esterni. A volte anche privati e quindi devono avere anche un costo. Quindi se si fosse pensato a, diciamo, immaginare più obiettivi PNRR legati in particolare alle infrastrutture sportive, anche io credo che sarebbe stata una cosa oltremodo positiva. Quindi purtroppo noi scontiamo, diciamo, questo deficit. Ed è un problema perché soprattutto le nuove generazioni e soprattutto nelle scuole medie e superiori avrebbero proprio necessità, diciamo, di confrontarsi anche in ambito sportivo con i loro coetanei. Diciamo così che sotto il profilo psicologico, sotto il profilo sociale, sotto il profilo economico, sotto il profilo della salute e quindi anche della lotta all'obesità, anche sotto il profilo della cultura nutrizionale, ci sarebbero dei vantaggi notevolissimi sotto questo profilo. Al di là poi del fatto che lo sport insegna un fair play, insegna un'etica che naturalmente i ragazzi ovviamente nelle scuole non sono in grado di apprendere perché ormai è sparito tutto dalle scuole sotto questo profilo. Non si fa educazione civica, non c'è, diciamo, come dire, una cultura o comunque un'intenzione di comprendere che soprattutto nelle scuole medie e nelle scuole medie superiori chi si sta formando non è solo una persona che ha bisogno di sapere, ma ha bisogno di crescere, di maturare. E non si cresce semplicemente, come dire, tra i banchi, leggendo, studiando, si cresce anche attraverso un sano esercizio fisico. E noi abbiamo un gravissimo indicato su questo profilo. Peraltro adesso noi avremo una novità breve perché finalmente dovrebbe entrare in vigore, è stata fatta una modifica, il famoso decreto 36, cioè quello che fissa proprio per i laureati e nella triennale di scienze motore, poi nell'EM47-67, quindi nelle specialistiche, finalmente individua quella che è la figura professionale tipica, il chiesionogo, quello adattato, quello menageriale, quello, diciamo, semplice triennale e definisce quella che è una professione vera e propria, che secondo noi, soprattutto per determinate specialistiche, è una vera e propria professione sociosanitaria. E una volta individuati questi soggetti, finalmente potremmo avere dei professionisti che possono andare anche nelle scuole a supportare in qualche modo una cultura diversa dello sport e del movimento. Quante portate per il prodotto interno lordo che il governo collabori con la comunità scientifica e finanzi lo svilupparsi delle nuove tecnologie? La crescita del PIB dipende da tantissime variabili, ovviamente. Se la domanda è ma il governo ha compreso che la ricerca scientifica, l'innovazione tecnologica sono un volano che nel medio e nel lungo periodo sono rilevantissimi ai fini della crescita economica nel nostro paese? La risposta è sì, ma non è solo questo governo, ma anche i governi precedenti lo sapete. Il problema vero è che ormai l'innovazione tecnologica, la ricerca, si fonda su due aspetti fondamentali, la capacità degli individui e quindi della loro formazione, e in Italia abbiamo dei ricercatori, degli scienziati favolosi, sotto questo compito, in tutti i campi. Campo medico, campo informatico, campo ingegneristico, veramente dappertutto, il campo ambientale, dappertutto. Secondo aspetto, la risorsa che impieghi, l'investimento che fai. L'Italia è un paese che fa pochi investimenti, voglio dire, fa pochi investimenti perché ce lo dobbiamo dire, un paese povero, questa è la verità, sotto questo profilo. Non possiamo paragonarci a paesi che hanno una capacità di investimento e quindi una capacità di innovazione tecnologica, chiaramente che ci supera. L'idea dell'Europa unita, anche sotto questo profilo, è fondamentale, perché bisogna mettere insieme tutti i paesi europei che con le risorse complessive possano sì, a quel punto, avere una capacità di innovazione al pari delle altre grandi nazioni. chiaramente non arriveremo, credo mai, a paragonarci agli Stati Uniti, alla Cina, alla Russia, diciamo in qualche modo, però o comunque grandi investitori privati, che hanno una capacità economica significativa. Ma la cosa fondamentale è creare una rete europea che consenta di avere le risorse necessarie e comunque sufficienti per poter procedere in questo senso. ti ho detto la consapevolezza, se la domanda era questa, la consapevolezza che solo attraverso ricerca, quindi investimento in ricerca e innovazione tecnologica, l'Italia può andare avanti? Credo che ce l'abbiano tutti, anche perché l'Italia è un paese, diciamo, non con grandissime risorse naturali. Quindi la grande capacità italiana è quella proprio dell'innovazione, è quella manufatturiera, è quella che ci deriva dalla grande capacità di trasformazione della risorsa naturale in beni che possono poi essere apprezzati e su uno naturalmente fornire di benessere per i cittadini. Questo è quello che si aspetta dall'Italia, oltre naturalmente a tutto l'aspetto dell'economia turistica, dei beni culturali e così via. Ma se parliamo di tecnologia, ormai quella è fondamentale in tutti i campi. Lei ha parlato, tu hai parlato, dei campi sanitari? Benissimo. Ma perché in agricoltura non occorre avere innovazione tecnologica, nell'industria non occorre averla? Abbiamo una necessità, diciamo, di applicazione del nostro paese, di, diciamo così, di intelligenza artificiale, per mettere in rete e fare una sorta di interoperabilità di tutti i dati informatici che abbiamo. Noi siamo un po' arretrati sotto questo profilo, nel senso che abbiamo tanta massa di informazione, tanti data center, ma poi non si parla solo di loro. Questo è un po' il dramma che abbiamo. Quindi serve tanta innovazione, il governo lo sa, e sa già agendo in questo senso. Chiaramente non è che dall'occhio al domani cambia, occorre poi il tempo per sviluppare queste azioni. Le politiche negli altri paesi europei, secondo lei, sono slettamente superiori a quegli italiani? No, no, diciamo che ci sono, che per fortuna, ci sono dei programmi di innovazione e di sviluppo che sono europei, e per fortuna i fondi europei sono diretti prevalentemente in questo senso. Quindi c'è il collegamento. Quello che dicevo io è proprio questo, non bisogna ragionare in termini italiani, ma in termini europei. Non toglie che in Italia, chiaramente, forse abbiamo a volte più bisogno di altri paesi, non di tutti, attenzione, ma di altri paesi potremmo prendere esempio, per così dire, perché noi primeggiamo in tantissimi campi, intendiamo che il campo sanitario, la sanità italiana è una delle migliori del mondo. Noi non ce ne rendiamo conto, perché siamo un po' criticoni con noi stessi, va bene? Provate ad andare in altri paesi per capire come funziona la sanità in altri paesi. e ci accorgeremo con noi, nonostante poi, per carità, errori che commettono tutti, però l'organizzazione, la capacità, la profondità, l'innovazione, soprattutto la capacità degli uomini, gli scienziati italiani, è notoria in tutto il mondo. Infatti non mi lamentò il sistema sanitario, piuttosto della prevenzione e quindi dello sport e dell'alimentazione che hanno sicuramente un ruolo fondamentale. vero, vero, questo è vero, questo è vero. Cosa ci dice riguardo il demanio pubblico degli stabilimenti balneari, che ora è diventato quasi inaccessibile andare al mare, perché i prezzi sono inaccessibili, raggiungibili, e addirittura i stati viventi non ti permettono di passare quando alla fine la legge dice tutto il contrario. Ma qui c'è da dire questo, che a volte c'è una cattiva conoscenza dei diritti. Allora, il mare, il litorale, il cosiddetto lido del mare, la spiaggia, sono beni pubblici demaniali. Cosa significa demaniali? Significa che non sono in titolarità di nessun soggetto e sono beni destinati a soddisfare interessi dell'intera collettività nazionale senza che nessuno se ne possa appropriare a titolo particolare o egoistico. Quindi noi in realtà avremmo titolo ad andare in qualunque spiaggia, su qualunque lido, senza temere niente. E le donne ci dicono che abbiamo un diritto di accesso a qualunque spiaggia. Che succede però in Italia? Che chiaramente il corismo è anche un'attività economica, soprattutto i cosiddetti beni che consentono gli usi pubblici del mare, che sono quelli appunto di alioterapia, di magnoterapia, eccetera, eccetera. È chiaro che quando c'è l'economia in mezzo è possibile che ci siano soggetti che vogliono sfruttarla, ma questo può andare anche bene, nel senso che una cosa è una costa brada che nessuno, diciamo, sicura pulisce e che è a disposizione di tutti, altra cosa è, come dire, un litorale che in qualche modo è governato, no? Governato cosa significa? Significa che c'è qualcuno che pulisce la spiaggia, che offre dei servizi sulla spiaggia, che fa anche dei controlli della valleazione, quindi in qualche modo con la funzione di salvataggio e così via. È un fatto, tutto sommato, che esiste in tutto il mondo ed è naturale. Il problema è avere un'Italia quale? Quello che in alcune zone in particolare c'è un'intensità di presenza, di concessionari, perché si tratta di concessionari balneari e naturalmente, in qualche modo, a volte sembra impedire il passaggio, come dire, dei soggetti per andare a uscire del bene del balneare, ma la realtà, volete sapere qual è? Che tutti i concessionari hanno nella concessione l'obbligo di consentire laddove non vi sia un passaggio per il mare comodo e libero, hanno l'obbligo di far passare anche chi non vuole i servizi del concessionario. Questa è la verità. Quindi io posso passare senza pagare nulla, se voglio i servizi, ovviamente pago i servizi, non posso stanziare nell'area della concessione che è destinata appunto a ombra e noni, sedia sdraio, cose di questo genere, ma tutto questo deve essere a 5 metri dalla battigia. L'area di 5 metri che va dal mare sostanzialmente verso l'interno è libera e io mi posso posizionare lì. Quindi la realtà delle cose è che c'è anche una cattiva diciamo percezione da parte nostra di ciò che possiamo fare. A volte c'è un'aggressività tra le rigolette di qualche concessionario che si tuffa del fatto che come dire non riesce a guadagnare chissà cranché. Quindi non è un male che ci si piene concessionari. L'importante è sapere che loro hanno degli obblighi che sono significativi sotto questo profilo. Possono guadagnare ma hanno anche degli obblighi. Il problema vero italiano è un altro. E l'Europa ci sta massacrando questo. Ci sta facendo procedure di infrazione in una continuazione. È che queste concessioni non sono state date a gara. Queste concessioni durano da troppo tempo sono stabilizzate e i concessionari in qualche modo hanno bloccato il mercato delle concessioni. Sono sempre gli stessi. Pisso cosa crea? Crea delle condizioni di sostanziale monopolio sul territorio. Questo significa che i servizi mancando la concorrenza sono meno qualitativi magari i prezzi anche sono un pochino più alti rispetto a ciò che potrebbe essere se ci fosse più concorrenza. però è anche vero. Guardate le cose sono sempre difficili. A fronte del fatto che si dovrebbero fare le gare per riassegnare le concessioni c'è anche da dire che ci sono tantissimi concessionari che hanno fatto una massa di investimenti per appunto avere queste concessioni e immaginare che possano essere soppiantati da altri solo perché ci arriva una società magari anche straniera che offre un canone maggiore e prende la concessione e manda via chi sta lì da vent'anni da trent'anni e ci ha costruito la vita anche questo tutto sommato non è proprio piacevole. Anche questo non è giusto quindi si tratta di trovare un contemperamento come al solito un equilibrio tra la necessità di garantire una certa concorrenza dell'assegnazione delle concessioni ma allo stesso tempo insomma non incidere in un settore economico così importante che dà da vivere a moltissime famiglie e soprattutto come dire nel tempo ha comportato degli investimenti ingenti da parte di questi soggetti dopodiché con chi prendersela se poi non c'è rimasto in certi posti uno spazio per mettere un ombrellone privato eccetera e lì bisogna prendersela con il comune o di comuni che dovrebbero garantire comunque degli spazi liberi in Francia ci sono i concessionari ma ci tengono tantissimo ad avere molte più aree libere del demanio rispetto a quelle che ci sono in Italia però è anche vero che quando andate come dire a usufruire dei servizi di questo concessionario in Francia si paga più che il doppio di quello che si paga in Italia mediamente perché chiaramente sono diciamo il numero inferio è capito quindi è un problema di come al solito di economia diciamo anche questioni sociali di diritto naturalmente l'equilibrio non è affatto facile e allora dico se non una cosa almeno dobbiamo essere consapevoli che abbiamo il diritto comunque di goderli quel bene anche senza necessità di prendere in affitto una serie un ombrellone questa è la verità a volte noi ce ne dimentichiamo il bene di Mariana non è usufru capibile non è commerciabile quindi non è vendibile non è neanche espropriabile è un bene che in modo insopprimibile destinato alla soddisfazione di qualunque cittadino se è così allora bisogna consentirgli questa verità questa è la verità bellissima lezione questo questo tratto invece si prof perché comunque c'è un alfabetismo abbastanza grande sotto questo punto di vista ma anche ma anche dalle ragazzi come me che comunque si trovano a volte cacciati via da dei lidi perché stanno giocando a calcio sul bagnasciuga perché è del lid e non possono giocare linee persone però questo ovviamente come come ne ha detto se io sono sul bagnasciuga posso farlo perché non è di un nido naturalmente rimane sempre lo stesso discorso ognuno di noi è libero di soffrirgli bene purché poi non limiti il diritto degli altri di soffrire allora pur io quando ero ragazzo faceva delle meravigliose partite di pallone però sapevo pure che ogni tanto qualcuno si scocciava perché in qualche modo uno dà fastidio qui è un problema io posso dire una cosa di educazione civica se non c'è nessuno se c'è qualcuno e ci sono bambini evito perché magari si fa male qualcuno è un problema solo di diciamo così di equilibrio anche sotto questo confine questo era questo era Gennaro Terraciano per Unifans grazie per essere arrivati fino alla fine mettete un mi piace iscrivetevi al canale attivate la campanellina lasciate un commento e ci trovate su Spotify e Amazon Music arrivederci prof ciao 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 grazie a tutti